...della Roma, arrivato dall'Urbe Tevere, quarta presenza in questa stagione, corre intanto Felix Fenagian, Felix! 2-0 Roma, ancora una volta! Felix, micidiale, dentro l'area di rigore, approfitta dell'errore difensivo dell'Ellas, prende il pallone, lo pulisce, lo cattura e lo mette in rete. Per il raddoppio, la firma è sempre sua. Di Felix, Fenagian, si addormenta la difesa dell'Ellas, Felix Fenagian, direttamente dall'area di Mastadonio, qui la difesa dell'errore resta a tornare, di testa Ferson, spizza per Felix, male, in zona coppola, pallonetto delizioso di Felix Fenagian, doppietta per lui, fa 4-5 del campionato.